Io sono Valentina Pedrazzini, ho 24 anni e sono nata a Piacenza. Sono una neolaureata all'Università Yulm dove ora lavoro come Junior Resource Assistant Presto Working Group Employee Communication e vedo questa nostra partecipazione al Festival dell'Economia come brand reporter per Sanofi, una grandissima opportunità di apprendimento e soprattutto una grande opportunità per noi di metterci in gioco. Ciao, sono Leonardo Favuzzi e studio relazioni pubbliche e comunicazioni d'impresa all'Yulm. Sono qui per raccontare la storia del Festival dell'Economia come brand reporter per conto di Sanofi. Ciao, sono Martina Covino, ho 20 anni, sono di Pesaro, studio relazioni pubbliche e comunicazioni d'impresa all'Yulm al primo anno e lavorare come brand reporter per Sanofi è una grande esperienza, sicuramente soprattutto a questa giovane età e quindi mi ritengo molto fortunata di fare parte di questo team. Ciao, sono Raquel Alvarado, ho 20 anni e vengo da Lavagna, in Liguria. Frequento il primo anno di relazioni pubbliche e comunicazioni d'impresa all'Università Yulm di Milano. Oggi siamo qui al Festival dell'Economia di Trento con i brand Sanofi in qualità di brand reporter e non vedo l'ora di cogliere tutte le opportunità che questa esperienza infrerà. Ciao, sono Andrea Grosso, sono nato a Napoli e studio relazioni pubbliche e comunicazioni d'impresa all'Università Yulm di Milano. Sono qui al Festival dell'Economia di Trento con Sanofi per lavorare con Sanofi come brand reporter ed è un'occasione molto importante poter collaborare con esperti del settore e mettere in pratica quanto appreso durante il corso di relazioni pubbliche e comunicazioni d'impresa. Ciao, sono Giovanna De Libero, ho 19 anni, vengo da Benevento e studio relazioni pubbliche e comunicazioni d'impresa all'Ulm. E' un grande onore per me essere qui come brand reporter di Sanofi e soprattutto fare un'esperienza così coinvolgente e importante già il primo anno di università. Ciao, mi chiamo Gerardo Pavia, ho 21 anni e sono dall'Università Yulm di Milano. Sono qui in veste di ambasciatore per la mia università per andare oltre lo studio teorico e capire anche che cosa vuol dire lavorare sul campo. Spero di imparare tanto e ma anche di divertirmi. Spero di imparare tanto e ma anche di divertirmi.